Presso il Lido Sara di Guardia Piemontese di fronte allo scoglio della regina è stata presentata la seconda edizione della Fiera del Benessere che si svolgerà dal 2 al 6 settembre prossimi presso le terme luigiane di Guardia Piemontese. La seconda edizione di questa manifestazione che punta fondamentalmente sulla creazione di un reddito produttivo basato su un turismo destagionalizzato per quanto riguarda proprio la cultura termale quindi sfruttare al meglio questa grande risorsa che c'è in Calabria e aumentare il flusso turistico anche nei periodi dove non c'è molto turismo in Calabria. Ci saranno una serie di forum tematici, ogni giornata ha una sua tematica, ci sono dei forum, spettacoli serali e intrattenimento, percorsi di benessere, percorsi enogastronomici e partiamo con l'inaugurazione della Fiera il 2 di settembre per proseguire poi con l'estetica e la medicina alternativa. Il giorno 4 invece con la nutrizione e le tradizioni popolari, il 5 è la giornata dello sport e del benessere e chiudiamo proprio con la cultura termale. Per quanto riguarda la parte artistica credo che la Fiera abbia fatto un grosso investimento quest'anno e quindi i due comuni di Acqua Pesa e di Guardia Piemontese perché hanno puntato su un intrattenimento e su degli spettacoli fondamentalmente a tema con le giornate. Un evento che servirà a promuovere da un lato le terme al vigene e dall'altro potrebbe contribuire a destagionalizzare il settore del turismo. Noi cominciamo insediati come amministrazione, abbiamo promosso questa manifestazione perché riteniamo che sia il volano adatto per far decollare le terme a livello di immagine. L'anno scorso l'abbiamo fatta nella terza settimana di settembre per fissare l'iniziativa, ora l'abbiamo spostata alla prima settimana di settembre perché riteniamo che sia anche un incontro fondamentale per allungare la stagione. Come comune abbiamo messo a disposizione risorse sia finanziarie che risorse umane, io mi avvalgo di tutta una serie di collaboratori tra i quali il vice sindaco e il professore Borrelli che oltre ad essere un docente di pedagogia dell'Unical è una persona molto preparata che fa parte anche grande del programma che abbiamo sviluppato per queste giornate. Oltre ai workshop e ai forum tematici presenti presso la fiera dal 2 al 6 settembre per i tanti presenti sarà inoltre possibile rilassarsi e degustare le numerose specialità culinarie del Lido Sara. In realtà ci siamo incontrati e abbiamo ideato questa fiera perché pensiamo che sia il futuro della stagione termale perché per benessere non intendiamo soltanto cura termale ma intendiamo l'accezione più ampia del termine, intendiamo cultura, intendiamo sport, intendiamo cure alternative, intendiamo cure nutrizionali e così via. Stiamo collaborando nell'organizzazione e probabilmente anche nel finanziare l'evento.